Due riflessioni che ci portano nel mondo reale perché a leggere qualche giornale uno pensa di vivere su un altro pianeta. Io ho ascoltato questa mattina amici e amici da paesi diversi, con culture diverse, con alcune sfumature che possono essere anche diverse perché se noi parliamo di Europa dei popoli è chiaro che identità e democrazia non è una caserma, è un'unione. È un'alleanza fra diversi che hanno obiettivi comuni. Io ho sentito solo parlare di futuro, di pace, di giovani, di amicizia, di sicurezza, di lavoro e quindi io penso che la giornata di oggi sia una giornata straordinaria, oserei dire storica, perché oggi può nascere il rinascimento dell'Europa che sarà fondata sul lavoro, fondata sui diritti e gli italiani come i francesi, i fiamminghi e i tedeschi che avranno una scelta. Da una parte il futuro, dall'altra il passato, da una parte la libertà, dall'altra parte la paura, da una parte i diritti, i diritti dei lavoratori, i diritti delle donne, i diritti delle uomini, dall'altra parte l'estremismo, da una parte il diritto al lavoro e io ho sentito con piacere che nessuno mette in discussione la transizione ecologica, però bisogna usare la testa, imporre per legge da Bruxelles sulla testa dei cittadini europei solo l'auto elettrica è un suicidio economico, sociale, industriale, è un favore alla Cina ed è un oltraggio al lavoro e al buonsenso degli europei.